Ciao a tutti, sentiamo parlare sempre più spesso di come si realizza il prezzo dell'energia, ma anche di TTF, di esplosione del prezzo del gas e del bisogno di disaccoppiamento tra i prezzi del gas e dell'elettricità. Proviamo a capire come si genera il prezzo dell'elettricità e perché in questo momento la paghiamo così tanto. A metà degli anni 90 l'Unione Europea ha introdotto un sistema per legare il costo dell'elettricità prodotta in qualsiasi modo a quello del gas, che all'epoca era di gran lunga la fonte energetica meno costosa. Il meccanismo, come potete immaginare, era stato pensato in un panorama energetico totalmente diverso, anche per cercare di favorire la diffusione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile a prezzi ragionevoli.